Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Eppocamper. Oggi litio in Sardegna. Questo video è estemporaneo, non volevo neanche farlo, ma poi mi sono reso conto che questa installazione ha delle caratteristiche particolari, per cui eccovi qui a parlarvene. Parliamo di un impianto litio installato su questo bel motorhome che è dietro le mie spalle. Perché la Sardegna? Perché questo veicolo proviene dalla Sardegna, perché è un nostro amico che ha deciso di sfruttare le nostre caratteristiche e quindi lo ringraziamo anticipatamente per questo. Ha fatto tutta questa strada e quindi onore al merito. Prima di iniziare il video però vi chiedo l'iscrizione al canale, di condividere i video che vi piacciono con i nostri amici e di attivare la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che andremo a caricare sul canale. Abbiamo parlato di litio diverse volte, questa installazione non ha delle caratteristiche troppo disimili dalle installazioni che abbiamo già posto sul canale, abbiamo già visto, ma la caratteristica principale che però che vi volevo portare a conoscenza è quella della compattezza, ovvero siamo riusciti ad installare tutto il comparto litio, tutto il comparto energetico sotto i due sedili del guidatore e del passeggero. Questa cosa ci permette di risparmiare praticamente moltissimo spazio e di utilizzare lo spazio che viene generalmente utilizzato per la centrale elettronica oppure per gli attrezzi per la manutenzione delle ruote. In questo caso andiamo a fare l'elenco e vi andiamo a mostrare che cosa abbiamo installato, vediamo come si compone. Allora prima di tutto parliamo delle due batterie, due batterie sono state posizionate come state vedendo sotto il sedile del passeggero, stiamo parlando di due batterie da 150, della DS Tech, fatte apposta per essere installate sotto il sedile, quindi una potenza installata di circa 300 Ah, sufficiente per le esigenze di autonomia del cliente. Il cliente vuole avere un'autonomia praticamente quasi completa in quanto il veicolo, se non in rari casi, non frequenterà molto aeree di sosta e campeggi. La parte della ricarica viene affidata al solare, la 220 Volt ovviamente e al motore, quindi all'alternatore, quindi queste sono le classiche tre fonti di energia che ci permettono la ricarica del veicolo. Ho già provato le fonti di ricarica all'interno ma proveremo anche le fonti all'interno, quindi lo faremo insieme, questa è sicuramente la cosa interessante di questo video. Sotto il sedile del guidatore era già presente la centralina, l'abbiamo utilizzata eliminando il carica batteria originale che non era predisposto per impianti litri, abbiamo utilizzato un Blue Smart settato per batteria a litri ovviamente. Nella parte posteriore al castello abbiamo trovato diciamo questa configurazione standard che con questi Orion XS è veramente come diciamo noi la morte sua, ovvero due XS da 50 montati in parallelo tra di loro, nella parte posteriore mediante una tavola che è sganciabile e quindi si sfrutta lo spazio che viene creato dal carter posteriore del castello e gli Orion e i DC DC Charger sono veramente perfetti. Nella parte destra invece abbiamo utilizzato lo stesso concetto ma abbiamo posizionato tutte le bus bar, i fusibili e tutto diciamo il materiale di supporto compreso lo shunt che vedete nella parte superiore del castello stesso. A destra ovvero in un vano dedicato vicino al castello sono presenti i due Smart Solar e visto che ci siamo a questo punto vi definisco le varie potenze. Allora per quanto riguarda i DC DC Charger due nuovi da 50, gli XS da 50 quindi abbiamo una potenza di circa 100 Ampere ora dovuta all'alternatore. Per quanto riguarda il Blue Smart un 20 perché tanto è inutile avere una ricarica molto potente quando in realtà il veicolo non va mai in campeggio. Per il solare invece un 30 e un 20 perché la potenza dell'impianto è stata così suddivisa. Nella parte posteriore un pannello già c'era da circa 130 e l'altro abbiamo montato un 200 quindi 200 più 130 sono 330 watt quindi abbiamo installato un 20 uno Smart Solar da 20 per gestire due pannelli posteriore. È stato montato il 20 perché comunque andremo a sostituire probabilmente in futuro il 130 con un altro 200 quindi per avere un 400 nella parte posteriore. Nell'anteriore invece abbiamo sfruttato gli due spazi laterali per montare due moscatelli lunghi estretti da 120 ciascuno più due anteriori da 100 ciascuno quindi per una potenza totale di 400 va 440 watt nella parte anteriore. Questo ci ha forzato ad aumentare un pochino la dimensione dello Smart Solar. Abbiamo montato uno Smart Solar da 30. Adesso è tutto spento. Adesso entriamo dentro le applicazioni andiamo ad attivare tutto quanto e vediamo di che cosa si tratta e lo proviamo insieme. A proposito sicuramente qualcuno di voi si sarà accorto che c'è qualche cosa che manca in questo impianto. In realtà non avete tutti i torti. Manca la parte dell'inverter ovvero l'inverter è stato installato. Lo abbiamo installato in maniera diciamo così un po' volante quindi è presente di fronte agli Smart Shunt come state vedendo. Allora lavoriamo un attimo e andiamo a vedere quali sono i nostri componenti. Allora lanciamo la nostra applicazione. Eccoci qua stiamo parlando di un cosmo quindi prima cosa da controllare che cosa sta succedendo sul veicolo. Andiamo a lavorare sullo Smart Shunt e vediamo che abbiamo una batteria al 92% considerare che questa notte l'ho tenuto sotto corrente quindi ho caricato completamente le batterie e questa mattina le ho scaricate per una quota parte infatti per un 8% abbiamo consumato circa 23A. Come vedete ho collegato un phone all'inverter in maniera volante per cercare di farlo scaricare perché dobbiamo andare a vedere che cosa sta succedendo cosa succederà con i pannelli solari. Allora un 92% di batteria. Vi faccio notare una cosa ovvero qui noi abbiamo comunque collegati in rete abbiamo creato una rete che si chiama Cosmo e abbiamo collegato finalmente anche in questo con la nuova versione con gli XS anche gli XS riescono ad andare in rete quindi la rete sarà composta dello Smart Shunt ovviamente dei due gli XS 1 e 2 e due Smart Solar da 20 e da 30. Adesso andiamo a gestire la parte del fotovoltaico. Allora attiviamo e sono sinceramente curioso anch'io di sapere quanto produrranno questi pannelli. Allora attiviamo lo Smart Solar da 20. Attivo lo attiviamo a caricabatterie e attiviamo lo Smart Solar da 30. Perfetto ok andiamo a vedere che cosa succede. Allora tensione sullo Smart Solar da 30 in ingresso sono 21 19 ok attenzione piano piano sta salendo sono circa le 11 e mezza del mattino la giornata è bella perfetto i primi quattro pannelli stanno producendo intorno intorno ai 20 ampere ragazzi intorno ai 20 ampere questi quattro pannelli quindi una potenza di 250 watt 20 ampere andiamo a interrogare i più piccolini infatti qui la potenza è un po più bassa ok circa 200 170 300 si sembra abbastanza fissa 173 watt 12 ampere quindi 12 ampere 12 ampere e me 30 ampere vediamo vediamo che cosa sta entrando sullo shunt che sta stiamo parlando di circa infatti 28 considerate le perdite stiamo parlando di una produzione di circa 28 ampere ragazzi è tanta roba vento con 28 ampere l'ora veramente riusciamo ad avere una ottima ottima autonomia adesso andiamo a lavorare sugli orion xs vediamo che cosa succede accendendo il motore acceso il motore ho disattivato i due solari in modo da isolare praticamente due orion l'x1 sta producendo circa si 42 ampere andiamo un attimo a vedere la potenza totale stiamo parlando di circa 600 watt potenza 590 ok 600 watt sia per l'uno sia per l'altro alla fine la produzione è intorno ai 42 42 8 diciamo 43 circa 43 ampere cosa entra dentro la batteria è precisamente eccola qua sono 76 ampere giustamente 43 qualcosa per due accendiamo mettiamoci in condizioni reali accendiamo il frigorifero acceso il frigorifero come vedete la corrente scende a circa 58 ampere considerate che però abbiamo il solare spento quindi in condizioni solamente dei motori acceso solamente con l'alternatore e ovviamente anche qualche piccola luce accesa ma niente di particolare ok eccoci qua ultima fonte di corrente è la 220 volte attacchiamo il la 228 e vediamo cosa succede collegata alla 220 volte magicamente compare il blu smart eccoci qua andiamo a vedere che cosa sta succedendo ma in realtà è poco veramente poco importante niente gestisce la tensione 13,66 la tensione di ingresso di fornitura 20 sono gli ampere considerate che sono 20 gli ampere massimi si possono anche gestire 10 o 20 ma in realtà per un 300 ampere di capacità di batterie 20 ampere sono più che sufficienti perfetto benissimo adesso stacchiamo tutto e traiamo le conclusioni traiamo quindi le conclusioni di questo impianto che vi ho presentato oggi la caratteristica principale oltre a una ottima potenza perché ha un 300 ampere ora di batterie come capacità e un abbiamo calibrato secondo me abbastanza bene le correnti in ingresso per la ricarica perché il solare stiamo intorno agli otto un pochino meno di 800 watt che ci abbiamo abbiamo visto quanto ci forniscono e il mediante alternatore stiamo parlando di circa 100 ampere nominali poi sono 80 sono 70 insomma stiamo parlando di un'ottima potenza anche in quel caso e quindi solare e alternatore la 220 come sappiamo era poco importante quindi l'abbiamo messa da parte la cosa che mi prima farvi vedere è la compattezza di questo impianto che presentando tutti i componenti posizionati sotto i due sedili ne ottimizza le dimensioni mantenendo diciamo tutta la parte energetica in un unico punto accessibile quindi secondo me un'ottima soluzione sicuramente lo sfrutteremo per il futuro per oggi è quindi è tutto se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale come al solito condividete i video che ritenetevi interessanti con i vostri amici e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo ci vediamo alla prossima